Il turno di riposo rigenera l'Ammen, Scuola Basca e Tarezzo che spugna il campo di Ponte Bugianese contro il Bama 83-69 nell'ultima partita del 2019. Gli Amaranto subiscono la partenza veloce degli avversari che si portano sul 7-2 grazie alla coppia Ursini-Malvone. La sbaglia agisce a quello che sarà l'unico momento difficile della gara e già al quinto riaggancia il padrone di casa a quota 7 con una tritura di Provenzal. Altri due tiri dalla lunga distanza di Castelli e da Bartolo firmano il primo allungo retino che si concretizza la prima sirena. Con il punteggio di 19-11, nel secondo quarto la squadra di Mille aumenta ancora di più il ritmo segnando 10 punti consecutivi che la portano sul 29-13. Pellegrini segna 10 punti in un quarto d'ora ma il vantaggio dell'Ammen è costante. Solamente una pazzesca tripla di Ursini da oltre metà campo permette all'Alto Pascio non solo di chiudere a meno 13 all'intervallo ma anche di riprendere fiducia. A rientro dagli spogliatori gli Amaranto sono però molto concentrati. Il trio Cutini, De Bartolo, Tenev guida offensivamente la squadra che in difesa riesce ad imbrigliare gli avversari che scivolano a meno 19 a fine terzo quarto. L'ultimo parziale che in altre occasioni è stato purtroppo il tallone di Achille e degli Aretini questa volta non regala sorprese. L'Ammen raggiunge il massimo vantaggio di 23 lunghezze sul 72-49 e gestisce fino alla fine il vantaggio. Sette punti di fila messe a segno dai padroni di casa fissano il punteggio finale sull'83-69 per la SBA che ha avuto il merito di rindirizzare la partita fin dalle prime battute di gioco evitando poi il rientro degli avversari. Con questi due punti si chiude il 2019 agonistico della scuola basketarezzo, un'annata che ha regalato tante soddisfazioni non solo con la vittoria del campionato nel giugno scorso e la promozione in Serie C Gold ma anche con tanti risultati positivi del settore giovanile. Non ultimo da nascita del gruppo mini basket femminile SBA. In attesa delle finali di Coppa del 4 e 5 gennaio con Arezzo che ha avuto il pregio di essere scelta per l'organizzazione, l'Ammen SBA coglie l'occasione per porgere a tutti i migliori agoni di buone feste.